Organizzata dal Consiglio regionale e dal Centro Studi Piemontesi, si è tenuta a Palazzo Lascaris una giornata di studi sugli scontri tra popolazione e regge forza dell'ordine del settembre 1864 che seguirono alla decisione di spostare la capitale da Torino a Firenze. Nella stessa sera, Piazza San Carlo ha ospitato lo spettacolo 150esimo anniversario della strage di Torino, promosso dalla Fondazione Savei. Il 1864 è l'anno che segna per il Piemonte un capovolgimento, è l'anno che viene deciso il trasferimento della capitale da Torino a Firenze ed ecco perché abbiamo pensato a 150 anni da quella data di non fare solo una memoria, un ricordo ma di fare un convegno di studi per approfondire un tema che i libri di storia in qualche modo liquidano con pochissime righe. Lo spostamento nel 1864 della capitale da Torino a Firenze è un episodio di storia ancora poco conosciuto. Sì, io credo che vada in particolare evidenziato il grande ricambio della classe parlamentare, in particolare della Camera dei Deputati, perché dopo il trasferimento della capitale vennero eletti professionisti di grande qualità e il Parlamento cambiò quasi completamente. Ci fu da una parte la permanente piemontese, dall'altra l'avvento del cosiddetto terzo partito, cioè un centro che raccolse il consenso di tanta parte degli elettori e rinnovò il Paese.